Allora, come dicevamo, iniziamo con un momento dedicato all'amore, iniziamo con l'uscita di Juicy Store, che è un negozio con proposte alternative e abbinamenti all'avanguardia situato a Preganziole in Via Europa 2019, si trova in provincia di Treviso, chi sceglie Juicy Store sceglie di accettare le sfide quotidiane e di usare nel proprio look dall'ufficio alla vita privata. In previsione dell'arrivo della primavera nella collezione presentata questa sera si accendono proprio i colori ed è inoltre il sito della speranza verso il futuro, in questo caso di una nuova stagione che sta iniziando con un fiore che sta per sbocciare. E allora facciamo un bel applauso alle proposte di Juicy Store. Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 a tutti.